Tu sei benedetta fra le donne. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, rega per noi peccatori. Adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Oh Gesù, perdona le nostre colpe. Preservaci dal fuoco dell'inferno. Porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Nel secondo mistero, contempliamo Gesù flagellato alla colonna. E Pilato, volendo dar soddisfazione alla moltitudine, rilasciò Barampa. E dopo aver fatto flagellare Gesù, lo consegnò per chi fosse crocifisso. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno. Sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Venga il tuo regno. Sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è l'ora della nostra morte. Amen.